Allora, buongiorno a tutti. Io ho pensato prima di tutto di capire in che veste avrei deciso di parlare, visto che sono noto per la mia bulimia, quindi sostanzialmente sono editore con Minimum Fax, sono agente letterario insieme a due colleghe, Colomba e Francesca, che sono qui e quindi seguo una trentina di autori italiani e sono pure traduttore e ogni tanto scrivo pure, quindi alla fine e faccio pure recensioni, insomma non mi faccio mancare niente. Però credo che quello che mi ha fatto decidere cosa dire qui è stato uno strano evento che è avvenuto a Pordenone al Festival Letterature, in cui io mi sono ritrovato nelle veste di traduttore di Stephen King e di autore di un libro su Stephen King a colloquiare con Lorenzo Flabbi, che per chi di voi non lo conosce è il traduttore e l'editore di Annierno. Quindi noi ci siamo ritrovati a parlare di Stephen King e Annierno, che è come dire il diavolo e l'acqua santa, cioè come dire due modelli di narrativa che apparentemente non hanno niente a che fare uno con l'altro. Ne è uscita inevitabilmente una discussione interessantissima, proprio perché siamo partiti dall'ammettere l'idea che questi due signori non hanno molto a che fare uno con l'altro e inevitabilmente abbiamo finito per scoprire che hanno a che fare invece uno con l'altro per una cosa essenziale, che forse è l'unica cosa di cui mi piacerebbe parlare qui e che secondo me ha molto a che fare con tanti interventi che ho sentito in precedenza e con l'esigenza forse che ha spinto anche Patrick e Massimo a creare questo momento di condivisione. A un certo punto discutevamo e io ho raccontato un episodio di cui parlo anche nel libro che riguarda King. A un certo punto a King chiedono ma tu ormai sei famoso, vendi milioni di copie, i tuoi libri sono tutti film, perché non vivi a Hollywood dove magari vai a cena con il tuo amico Steven Spielberg o perché non vivi a New York e magari vai a cena con il tuo amico Bruce Springsteen e invece continui a stare a Bangor. In quel periodo era ancora a Bangor, adesso si divide perché gli fa male le ossa che è diventato vecchietto e quindi ogni tanto se ne va in Florida dove fa più caldo. Lui ha risposto io non andrò mai né a New York né a Los Angeles, io sto nel mio main perché nel mio main non succede niente. Questa è la motivazione che lui ha fornito e io la trovo una motivazione illuminante. Passiamo ad Arnierno, Lorenzo Flabbi mi sente dire questa cosa e mi dice sai una cosa, io vado spesso a trovare Annie come editore, lei vive in questa cittadina, in questa ridente cittadina francese, ha questo bellissimo studio con due finestre delle quali una affaccia su un meraviglioso paesaggio, bellissimo, proprio la miglior campagna francese e l'altra affaccia su un vicolo cieco. Secondo te da che parte è girata la scrivania di Arnierno? E io ho detto sarà girata dalla parte del vicolo cieco, infatti è esattamente quello che mi ha detto, cioè per poter lavorare a Nierno guarda un vicolo cieco. Perché dico questa cosa? Perché credo che, insomma sappiamo che negli ultimi mesi noi siamo stati travolti da una polemica appunto sugli eccessi dell'autofiction e addirittura sugli eccessi di quella autofiction che non è neanche fiction, ovvero sia siamo stati anche molto tutti a discutere sul motivo per il quale i due principali premi letterari quest'anno siano andati a due opere che non si possono considerare opere di fiction nell'una nell'altra, perché una è un'opera che poteva essere autofiction ma che per come è stata promossa, presentata e per gli eventi anche drammatici che ne hanno accompagnato l'uscita è diventato altro, è diventata una storia personale dolorosa di una persona che oltretutto non è più fra noi. L'altro, cioè il recente Campiello, e non sto parlando di qualità perché non mi interessa parlare di qualità dei libri, francamente lo troverei un lavoro ozioso discutere se questi libri sono buoni, non sono buoni, meritano o non meritano. Intendo dire che questi libri sia per la loro natura, sia per come sono stati promossi chiamano a qualcosa che è fuori da sé e chiamano a una presenza massiccia, dominante dell'autore. E qui entriamo su un terreno sul quale in qualche modo già alcuni sono intervenuti, cioè questa presenza necessaria dell'autore, questa tendenza devo dire anche da parte degli editori, e qui per un attimo parlo da editore, a dire ok per poter promuovere il libro è necessario che l'autore, scusate sono brutale, o ci sia, e quindi sia presente, molto bravo anche nel promuoversi, o meglio ancora, scusate sono brutale, sia morto. E sto dicendo una cosa molto dura, ma la sto dicendo perché diciamoci la verità, è esattamente quello che è successo. E quindi prescindo, ripeto, dal merito e dalla valutazione del premio strega, sulla quale non entro. Allora, mi ha colpito un'altra cosa che Lorenzo Flabbi mi ha detto su Annierno. Mi ha detto, e io poi anche in alcune interviste ho ritrovato questo punto, che Annierno considera il fatto di dover necessariamente partire da sé, dal proprio vissuto, più una condanna che non un vantaggio. Perché Annierno dice, e ha detto più volte, il fatto che io, che l'innesco della mia scrittura debba sempre necessariamente essere qualcosa che mi è accaduto e che mi riguarda, è un qualcosa che uno, mi limita, due, mi costringe a un durissimo lavoro attraverso la scrittura per sottrarmi alla dimensione autobiografica, alla dimensione diaristica e far diventare il mio libro un atto narrativo, autonomo e anche perché no spesso un atto politico. Trovo molto interessante questo punto e lo collego in maniera immediata a quello che dicevo prima sulla necessità di creare un vuoto dentro il quale l'immaginazione possa agire. Il fatto che ci sia un vuoto attraverso il quale l'immaginazione possa agire è non la negazione ma il preludio, secondo me, di un'idea di scrittura come atto politico. La scrittura è un atto politico se parte da questo vuoto. Io ho tradotto ripetutamente Stephen King e quindi stiamo parlando di uno scrittore che ha fatto dell'immaginazione, proprio di un'immaginazione direi furibonda, travolgente, che non si è fermata davanti a nulla, in qualche modo la natura stessa della propria scrittura. Ebbene, Stephen King, per esempio, faccio un esempio sull'ultimo libro perché sta in classifica proprio ora, che è Holly. In questo libro c'è una forte base immaginativa, poi c'è una base che ha a che fare con la pandemia. Cioè il libro si svolge durante la pandemia e Stephen King decide espressamente di parlare della pandemia. Quando parla della pandemia, essendo lui ovviamente un forte sostenitore, essendo prima di tutto un antitrampiano doc, come sappiamo, e quindi questo presidente che andava in giro orgogliosamente senza mascherina, lui lo considera un criminale, lui ha fatto un libro nel quale questo Covid è presente in maniera quasi ossessiva. Secondo me in maniera quasi fastidiosa, perché in maniera programmatica è dichiarata. In passato, questo stesso signore, Stephen King, in pieni anni ottanta, quando in America, e poi chiudo, quando in America, sì ma non voglio, poi al limite fammi la campanella e dimmi anche, si sbrighi, come faceva la russa, eh, fammi pure, eh. Però, ecco, lo stesso signore che Inolli ha ritenuto necessario, secondo me in modo qualche volta forzato, di fare una dichiarazione politica esplicita, in passato, in pieni anni ottanta, quando in America Reagan spadroneggiava, e con Reagan spadroneggiava la Reaganomics, quindi un modello economico e sociale basato sulla sopravvivenza del più forte, e sul fatto che chi, per ragioni sociali, personali, o quale che fosse, era ritenuto inadatto, dovesse rimanere indietro e tutt'al più raccogliere le famose briciole, no, che l'economia capitalista riversa anche sui morti di fame. Questa idea King l'ha combattuta come? Scrivendo un romanzo ambientato in una cittadina, Terry, sto parlando di Heath, una cittadina in cui il male sta annidato, no, nelle fondamenta stesse della città e coesiste in qualche modo con l'America stessa. Chi è che viene chiamato a combattere in male un gruppo di ragazzini totalmente inadatti. I classici ragazzini che la Reaganomics metterebbe ai margini, uno perché è balbetta, uno perché è troppo grasso e ogni volta che si muove fa dei disastri, un altro perché parla quando dovrebbe star zitto, un altro perché ha l'asma, un altro perché è ebreo e un altro perché è nero. Non ha avuto bisogno di parlare di Covid, non nomina mai Reagan in una sola pagina di quel romanzo e quel romanzo è, io credo, il romanzo più politico che si è uscito negli Stati Uniti negli ultimi 50 anni. Questo per dire sì, la letteratura deve essere politica, deve essere un atto politico e deve essere un atto politico però a partire da quel vuoto in cui l'immaginazione si esercita. Perché se noi invece ne facciamo un atto di militanza in senso per cui l'ideologia diventa ciò che noi scriviamo, la ragione stessa del nostro scrivere, secondo me non andiamo lontani e rischiamo di diventare dei vannacce all'incontrario. Cioè cerchiamo di recuperare quello spazio e in quello l'editoria si prenda le sue responsabilità e questa volta lo dico da editore perché io sono d'accordo con moltissime delle cose che ha detto Michele prima, ho sentito dire è sempre stato così, l'editoria alla fine c'è un segmento, un 3% che vende e che spesso non ha granché a che fare con la letteratura, adesso magari ha molto a che fare con l'io e quest'io, ribadisco, è un grosso problema che noi dobbiamo affrontare, è un problema che ci portiamo e che abbiamo ereditato ai miei dalla mia amata America, perché viene da lì, dove per figlio lo scrittore che non appare, che non vuole apparire, per non apparire deve essere comunque una figura, un personaggio. Quindi o deve essere Pinchon di cui nessuno sa nemmeno che faccia abbia, o deve essere Cormac McCarthy, citato prima, che quando arrivavano i giornalisti a intervistare sul Sorencio si faceva trovare col fucile in mano, quindi non lo scrittore che semplicemente poveretto dice io affido tutto a quello che scrivo, punto e basta. Quindi c'è anche un problema proprio di io, ecco, il problema forse è questo famoso 3% di libri che sono paraletteratura, non portano più i libri buoni, non è più vera questa cosa, io non la vedo più. Nel momento in cui cominciamo a rivederla vuol dire che gli editori, anche gli editori, le maggior editoriali per le quali io ho lavorato, nei confronti delle quali non ho assolutamente nessuna preclusione, ritornano a fare del modo giusto il loro mestiere. Facessero loro del modo giusto il loro mestiere e cerchiamo di farlo anche noi invece editori indipendenti, che non siamo assolutamente santi in confronto ai demoni, non lo siamo, ma siamo persone che devono cercare di lavorare qualche volta anche un po' in anticipo sui tempi e immaginando i bisogni del lettore invece di riassecondare i bisogni che il lettore conosce già.